Com'è vivere fuori dall'eurozona? Questo è il nostro viaggio in Gran Bretagna, il maggiore paese europeo che non ha aderito alla moneta unica. In Vita Fuori dall'Euro indaghiamo tutti gli aspetti che regolano la vita di questa nazione. Il tema di questa puntata è il costo della vita. Reteconomy, la nuova visione dell'economia.